Eccoci qua, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei nostri libri, libro consigli in diretta, ovvero tanti bei consigli di lettura che potrete leggere e potrete scoprire in prossimità del weekend. Insomma, cosa leggete questo weekend? Noi questo weekend abbiamo un bel libro di fantasmi, attenzione attenzione, da brivido, da consigliarvi. Come al solito abbiamo pescato, non è una novità, abbiamo pescato dal nostro scaffale una delle pubblicazioni che ci piacciono di più e che è da un po' che circolano qui al covo della ladra, che abbiamo letto, recensito e che oggi vi voglio raccontare. Sto parlando di Montaugro James, e ora avanti vedete per la pronuncia forza, stiamo parlando della casa di bambole, delle bambole infestata e la mezzantina. Allora, tre motivi per cui leggere questo libro e che cos'è questo libro? Partiamo dal che cos'è. Prima di tutto è una bellissima storia, horror, soprannaturale, paranormale, una di quelle che solo un maestro del genere come James poteva scrivere. Di lui ne parlano tutti, da Lovecraft a King. È stata ed è tuttora una fonte di ispirazione per gli amanti del racconto di fantasmi vittoriano, ma soprattutto per gli amanti del soprannaturale in generale. Come potete immaginare già dal titolo di questo racconto, questo racconto prevede la presenza di una casa di bambole infestata, o quantomeno la presenza soprannaturale che coinvolge e sconvolge i protagonisti. Ma perché abbiamo due titoli in copertina? Questo è il primo motivo per cui vale la pena leggere questo libro pubblicato dall'Abe editore. In realtà questa si tratta di un'edizione critica, un'edizione critica di questa novella che ha come tema il medesimo, ma che viene sviluppata da James in due momenti differenti con due storie diverse. Insomma, la mezzantina e la casa delle bambole infestate hanno una storia editoriale differente. Una è stata regalata alla regina inglese, spero di non... sto andando a memoria, quindi ammetto che sto andando a memoria. L'altra invece viene pubblicata nel 1924. Sono due testi, e lo stesso James si scusava per la simiglianza tra i due testi. Sono due testi che appunto sono simili, ma che hanno delle piccole differenze soprattutto nel coinvolgimento soprannaturale dei protagonisti. E io qui non vi dico niente perché ve lo dovete leggere. E si tratta di un racconto molto breve, sono circa 80 pagine. Entrambi i racconti sono brevi, sono 80 pagine e sono veramente... è una cosa veramente veloce di quelle proprio da post-cena, fuori c'è il temporale, e noi ci leggiamo un racconto soprannaturale. Insomma, la casa delle bambole infestata è questo, ed è interessante perché nella sua versione critica, vi faccio un esempio, la curatela di Enrico De Luca ha fatto sì che, ad esempio, ci fossero le note a piedi pagina che un po' ci spiegano tutti i riferimenti, tutti i rimandi e anche le differenze tra le due versioni della novella. Il secondo motivo per cui la casa di bambole infestata è pubblicata dall'Abeditore è uno di quei libri che vi vogliamo consigliare, sono le illustrazioni di Miriam Tritto. Lo vedete già dalla copertina. L'Abeditore si distingue per fare questi piccoli tesori, questi piccoli capolavori anche di grafica, oltre che di narrativa old style, ma sempre attualissima, sempre bella e piacevole da riscoprire. Ma se andiamo ad aprirlo, ci sono tanti dettagli che sono proprio belli da scoprire. Per esempio il risvolto, per esempio i capolettere, adesso vedete che ve ne recupero un altro, per esempio questo. Sono tanti gli apparati grafici e il modo in cui è impaginato che diciamo vale la pena di scoprire leggendo questo romanzo. Tanto più che alla fine delle due novelle abbiamo anche gli studi preparatori, un bellissimo compendio grafico con tutti gli studi preparatori che Miriam Tritto ha fatto per lo studio dell'impaginazione grafica e delle illustrazioni di questa novella. Terzo motivo per cui vale la pena leggerlo è sicuramente la cura e la dovizia di particolari che l'abelitore ha messo e ha riposto in questo lavoro, ma soprattutto il libro in sé, proprio il racconto, perché ha tutti gli elementi classici delle ambientazioni vittoriane, dei racconti vittoriani di fantasmi. In tal proposito vi voglio leggere due cose, due pezzetti diciamo, quello che troviamo sul retro di copertina, che è una domanda di James. Un'ulteriore domanda è, voi credete nei fantasmi? Alla quale io rispondo che sono disposto a considerare l'evidenza e accettarla se essa mi soddisfa. E se l'evidenza vi soddisfa leggendo la casa di bambole infestata, me lo dovete dire voi. Il secondo invece, il brano che vi voglio leggere è proprio l'incipit, che è non solo classico, ma proprio un piacere per il lettore e anche per l'ascoltatore. Immagino che vi capiti piuttosto spesso tra le mani roba di questo tipo, no? Disse il signor Dillet mentre indicava con il suo bastone un oggetto che descriveremo quando sarà il momento. E nell'istante in cui lo disse mentì, sapendo di mentire, non una volta in vent'anni, probabilmente neppure una volta in tutta la vita, il signor Kittenden si sarebbe aspettato abile, come era, nello scovare i tesori dimenticati in una mezza dozzina di contè, di rinvenire un tale esemplare. Era una preziosità da collezionisti e il signor Kittenden l'aveva riconosciuta come tale. Roba del genere, signor Dillet, è un pezzo da museo, ecco. Beh, suppongo che ci siano musei che prenderebbero qualsiasi cosa. Ne ho vista una, non pregiata come questa, anni or sono, disse il signor Kittenden, pensierosamente. Ma non è probabile che si possa trovare sul mercato, e mi hanno detto che al momento ce ne sono in circolazione ben poche buone dello stesso periodo. No, vi stavo solo dicendo la verità, signor Dillet, quando sostenevo che se mi ordinaste di trovarvi senza limiti di prezzo il meglio che si possa trovare, e voi sapete che ho le possibilità di venire a sapere determinate cose e ho una reputazione da mantenere, beh, tutto ciò che posso dire è che vi mostrerei quella e direi, non posso fare di meglio per voi, signore. Senti, senti, disse il signor Dillet, applaudendo ironicamente con la punta del bastone sul pavimento del negozio. Quanto chiederesti a uno sprovveduto compratore americano per questo, eh? Quanto il signor Kittenden chiederebbe ad uno sprovveduto compratore americano, lo dovete scoprire voi, leggendovi il nostro libro consiglio di oggi, ovvero La casa delle bambole infestate e la mezzantina di James, pubblicato da Abeditore, prezzo piccolino, 9,90 euro, che vi consiglio appunto di leggere, soprattutto visto il tempo, la treggenda che abbiamo fuori, travelto, insomma, ce n'è per tutti i gusti direi. E come tutti i giovedì dal covo della ladra con questo nostro bel libro consiglio un po' da brivido è tutto. Io vi aspetto come sempre qui in libreria, come sempre tutte le ore online per rispondere alle vostre richieste, per rispondere ai vostri, per darvi consigli di lettura, logicamente in base a ciò che state cercando e soprattutto se avete voglia di leggervi La casa delle bambole infestate di Montauk Road James, pubblicato da Abeditore, basta seguire il link che trovate nella descrizione di questo video e cascare sul nostro sito e li potrete acquistarlo direttamente dal sito oppure chattando con la vostra libraia, sia dal sito sia da Whatsapp, insomma, da dove volete voi. Come ben sapete il covo è dovunque e comunque e soprattutto se in libreria non ci potete andare, il covo viene da voi. Questo è importantissimo. I libri devono trovare una casa. Per ora è tutto, per oggi è tutto. Io smetto di dire stupidaggini perché se è fatta una certa. Un bacio a tutti e buona giornata dal covo della ladra. Ciao!